Bitonto Brindisi, sulla carta un derby senza storia, ma potrebbe essere questo l'elemento in più per la formazione brindisina, che nonostante le necessità di conquistare punti salvezza scenderà in campo con la consapevolezza che ogni punto conquistato sarebbe un punto guadagnato per una sfida che si presenta certamente proibitiva per la squadra adriatica. Da una parte la capolista Bitonto, allenata dall'ex biancazzurro Roberto Taurino, dall'altra un brindisi che sta provando ad estranearsi da tutto quello che lo circonda, che condiziona soprattutto la mente della rosa biancazzurra. Parlando di calcio giocato, per la gara con il Bitonto i brindisini saranno orfani di Fruci in difesa e Zappacosta a centro campo, entrambi squalificati per una giornata dal giudice sportivo, con Capone che tornerà al centro della difesa e Pizzola che probabilmente tornerà sulla mediana. Non sono escluse novità anche in fase offensiva, con Touret non al meglio della condizione fisica, con Montinaro che dovrebbe essere confermato in attacco dopo il buon esordio con il Nardò affiancato da Ancora. Fischio d'inizio alle ore 15, diretta in esclusiva su Canale 85.